E' per noi un piacere come gruppo Arvedi essere oggi all'inaugurazione delle nuove gallerie Leonardo qui al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, una partnership che dura da molti anni fino a quando abbiamo contribuito alla realizzazione dell'area acciaio in cui anche le tecnologie sviluppate da Arvedi sono illustrate al pubblico come esempio di innovazione. Ed è appunto l'innovazione, il filo rosso che ci congiunge con questo genio del rinascimento che tanto ha contribuito al progresso con visione verso il futuro che in qualche modo ci accomuna nella produzione di materiali sempre più innovativi, sempre più verdi, sempre più rispettosi della vita.